Scusi, so che interrompiamo il coito Ma non c'ho niente da fare? Sinceramente no 77 anni faccio questo tutti i giorni Ma c'è cazzo proprio da fare? Niente proprio, vabbè grazie, ho il nipote chiesto Ciao Pronto? Sì 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 Che lei? Mi sono svegliata ogni ora Non mi viene Non mi viene No, mi sono svegliata ogni ora Tutta ogni ora Se puoi Ora svegliata Ma poi Ma quando si sceglie Ma quando si sceglie Pronto? Pronto? Ci sta Maria in questo appartamento Sì, chi è? No, starei facendo troppo casino Noi qui non usciamo Siamo faticati Noi ci dobbiamo svegliare Scusi? Ci dobbiamo svegliare noi Troppo casino Ma chi è? Ma chi vuole? Vuoi tenete la musica alta? No, guardi No, guardi ha proprio sbagliato Ho sbagliato proprio Cioè sente musica qui Sì Sì, sento musica Ma lei dove abita? Io abito vicino a voi Cioè? E' pi*****a Io abito lì Eh sì Ma noi non abbiamo noi Ma allora Sento dalla casa Luce che si accendono Si spengono Casino Gente che entri Gente che esce E' dall'ora Che ci siamo svegliati Che siamo Noi domani Ci dobbiamo svegliare Sì ma guardi Non siamo noi Ma allora io sto vedendo Siete voi Dite sempre così Ogni volta che chiamo No non siamo noi E poi No perché Ha già chiamato tre volte Allora non ha chiamato lui Perché non E' la prima Stai dicendo bugie Bugie Comun Bass Allora io ve lo dico Volete dire le bugie? Io gentilmente Abbassate la musica Ballate piano Io pure sono stato giovine Ho ballato i miei temi Bassa voce Bassa musica Ballate Però comunque Capito? Hai capito? Perché sinceramente Avete cagato il p***o Però ho detto con il cuore Non è che lo dico con odio Siete giovani Divertitevi Però abbassate questo volume Non se ne può più Va bene? Va bene? No. No. Allora... Allora E' la luna È luna Luna e tre Mi pare Cominci a sentire Buzze buzze tutti i luoghi adesso e sinistra sveglio vado alla finestra vado ad apparello ah i soldi che vuoi essere la famiglia ormai allora io ho detto almeno forse ci metteranno manco pagato allora ho chiamato ora chiamo mi hanno scherzo lei sta scherzando allora assolutamente no non sto scherzando lei logicamente ora mi vuole prendere per i fondelli ovviamente però io vi dico con parsimoni abballate abbassate la musica io vi voglio far divertire però poi prendo misure drastiche vengo di là mi ammazzo tutti va bene? questo è un piccolo avvertimento che vi do vi ammazzo di mazzate ma proprio ammazzate in fascia proprio a stile vecchio antico come facevano con noi va bene? lei come si chiama? scusi lei chi ha chiamato? io ho chiamato b**** Maria è stato b**** Maria evidentemente allora comunque se mi vuole prendere i fondelli ma guardi io non so che dirlo a me sembra che lei scherzi perché se sta dicendo tu serio non siamo noi che abbiamo la musica allora ma per ogni volta che siamo è chiesto non siamo noi non siamo noi non siamo attacco il telefono la musica a palla ma avete studiato e da un po' e da quante giorni hai scuillato il telefono hai scuillato il telefono hai scuillato il telefono io ho sentito bello io ho sentito hai scuillato hai scuillato il marito mi hai scuillato guardi ecco mo chiamo guardi mo la facciamo infatti infatti mo gentilmente appena attacchiamo gentilmente abbassate questa c***a musica va bene? certamente credo che sono stata abbastanza chiara ecco allora buonanotte perché a me è stata già intussecata troppo buonanotte grazie a tutti